Poi, a pacco, a pacco, i suoi uomini hanno cominciato a inventare un'esperienza diversa, e hanno usato a imparare i vienamenti in momenti che non giochiano in dainanti a queste cose, che prima che erano disinni a queste esperienze. Uno che è vero, prima che erano capito l'umene, e ti semattessi uno sinno di questa esperienza che i suoi uomini ne ha chiesto. I suoi uomini vivono confrontando su uno che ha chiesto queste esperienze che ha chiesto di queste cose, non hanno riduzione sui uomini che ha chiesto in comune e, in contrario, che ha chiesto di queste cose. Quindi, le cose di questa scala e i suoi uomini ha chiesto di queste esperienze, fornivano un vocabolario, atto non delle parole, ma proprio delle cose al massimo, mette per la mano che ha chiesto il vocabolario atto delle parole. Le cose, e i suoi uomini invece di manizzare le parole, manizzare le cose. Adunzuno ha chiesto un significato, come è accomodato a uno significato a queste parole. Prima, lo significato lo ha chiesto a queste cose. Una bruttora depruissa non fì né buona né mala. S'uomini assattannela e confrontannela a chi sa sattela, gli da i suoi uomini significato, durche, ranchido, morde, tosta, cotta, cruda, bianca, niedda, virde, ruia. Su un significato di questa cosa, i suoi uomini ne ha chiesto. S'ammento che inna iata, s'idea che si ne ha chiesto. E gai ma te si espo a queste parole. Su un significato che il donzuno di essa ha ata, è s'idea diversa che i suoi uomini adatta a su uno diverso di donzuna. Su un significato di questa parola cadu, non è su cadu, ma l'esperienza che i suoi uomini adatta di questo animale. s'idea che si è innaffato, ma cari non ne ha pata mai isto uno. Dai, come te, e bilan ha contato, chi ne ha chiesto le parole. che hanno due uomini che chiedono la lingua diversa e che non si potene comprendere a pari, torna una galvoie a trattare esas cosas che pari a pari a pari a pari. verità e su un varzo e che i suoi uomini adatta di avere tutte le due sulle virtute, non hanno una e via, già disegnare le verità. pensate. E' apponato che la virtù di questa parola di narre su un varzo è una virtù male, ma come ho bisogno di spiegare meno su questo concetto. non si è innaffato, questa parola scoglionano, ma in suo mattesimo momento che scoglionano danno gli uomini un'idea nuova, l'idea dei sani che si sa. E' un'idea che poteva trattare a conca veramente agli uomini che noi chiedono a gala e dare, e che noi hanno inventato su modo di usare la lingua per sennare cose diverse. Un individuo, che era capito esperienza di saino e di suo gortuglio, poteva arrivare a pensare un saino che si sa lal di gortuglio, ma non poteva comunicare questi due anni e uno, o forse vi poteva rispondere a forza del sinno diverso, per esempio disegnando in sarena un saino che si sa lal. Ma su questo è che però comunicare questa fidea, invece di sviluppare le abilità di disegnare, sono sviluppate le abilità di anche questa lingua, sono diversi o qualcosa di diversi. Prima di segnare lo spuzzone, forse si muovono il braccio, la chiesa delle alas, e muovendo lo sabella bello sinna iata gortuglio, e l'esto l'esto perdiche. Noi schimoso, accanto al sinno diverso, potete arrivare a che ne de mano so, de pedese, de brazo so, de ocro so e de ocche. E poi si racconta, se lì basta già di fare crà crà, posso cucù, cu cu, posso vuoi mu, posso sardecche be, posso sanzone me, posso gatto mia, posso cane bau, posso saino, i o. o. De certi uomini, a chi ha dei donzi medio, posso anche comprendere da esso satero so, de mano so, e de pedese, e de brazo so, e de ocro so e de uca. Ma, questo è un uomo, sul sistema di signos che ha sviluppato, di Prusso, e su esso sono diversi, che potete poter fare, chi sa ocche, chi sa il movimento della limba, della uca, della labbra, della gorgoina, amministrando il respiro. Bisogna sempre, nel pensare, chi non ci si no, se il via può comunicare idea, cosa che non sono, gli occhiati in conca. L'idea del suo biessere, o non biessere, di una cosa, in uno loco, si è formata, insamente, del somine, prima del suo verbo, o a tirosinno, inventato da esse, che la comunicata, notando il suo movimento, delle cose, si so ristare, come in occhi, e apostisi, in cui dai, ponendo questo fatto, come ente sinno, danno a cose naturali, valore del sinno, o all'annare il mento, danno a queste cose, uno significato. su passaggio, da questo momento, durato, non so che tanto tempo, di sinno, di sinno, naturali, non inventato da esse, uomini, a sinno, a sa prima sinno, inventato da esse, uomini, ma tessi, fosse comprendere, a pare, e vina mentas, in assenza, del sinno, naturali, e fattese considerata, la valentia, pulmana, de su umanitate, su principio, de su camino, attuda, e una condizione, de era, agreste, a una condizione, de umanitate, e de cultura. dunque, a primo suomine, ide subessere, o non bessere, dessas cosas, a posti, del veneto, su sinno, beste, non beste, e forse esprima, del su sinno, verbale, a te lo sinno, sato schimmanoso, o chinsosocros, e gai, ma tessis idea, de su acere, a tapitu, a primo su sinno, de su acer ma tessi, e a posti, il movimento, e paraulas, sinno libero, dessas cosas sinnatas, e ligato solo, tra isos, de si solo, a simizarse, o contrariaresi, e dunca, da esse essere, dunzuno diverso, dai totu, e dai totu, osateros. Su sonu, dessa paraula, cadu, non dipende prudai, su cadu cosa, comente su be, simitazione, dessa ocche, dessa erveche, comente, su me, dai santone, su cro cro, de sa corrodda, su miau, de su gatto, su baubau, de su cane, non dipende pruso, dai su sinno cosa. che esa paraula cadu, non dipende dai su cadu cosa, es provato dai su vatu, chi può cussare ma tessi cosa, limba diversas, usan paraula diversas, combinações, de sonoro diversas, combinações, reguladas, non dai su que su cadu cosa, ma dai su sistema, chi combina, susate lo sonor, susate las paraulas, chi define in sedea, che su uomini, si è, e fa quenne, es affatto, dessas atras cosas. La libertate, de su sinno, fatiscoso, posto dai suomini, a sas esperiencias suas, data su suomini, sa possibilità, de si comprendere, a pare, mentoso, e depruso, de su, che permettia, su sistema, de su sinno naturale. E' vero, che i suomini, dessa paraula, si pote servire, può narrar el faulas, maestros importanti, su vattu, che si ne serve, però, comunicare, esas ideas suas, a sasatelos. E finalmente, su vattu, de si potes comunicare, aulas, aperito, un cammino, dessa esperienza, nuova, por su umanitate, s'esperienza, dessa immaginazione, comunicata. Io ti narro, che sei nuvolata, e del faula. Lisco io, che il faula, e l'escritto è puro. Ma come tu hai, un'esperienza nuova? Escritti, che io, oppure, comente, vorrei se escapitata a te, ha poi immaginato, un aino volante. E se tu, e prima, non vai a spessare tu? Come vi pensare? Quest'esperienza, non ha confine se. E sta arrivata, a ponere, in aeroplano, e allora, facer volare. Abbiamo imparato a fare e dare. Non riesco da tanto tempo, e non riesco a tanto, ma credo, pacco, pacco. Escritti, il murgo, e escritti, e escritti, a fare questo caso. Su l'arte, lo murghiamo, dentro del sol malunese, di un stricco, che non perdiano, caso si stampano, lo stavamo, che sa che era caente. Abbiamo imparato a fare il suo occhio, e a lo mantenere sempre al lutto. Cucchiamo sul latte, che tanna into, del sol malunese, spetta al fuggito al derivo. Cucchiamo sul pezzo, da era. Mannicchiamo il latte vischi, del frue, e ischidale. Esar femmina, rischiam collire, su semene, polugettare, a sas prima sabbasa, e isa vertura, e isa brutta, la creschia, nainto, non sas concheder. E poi, ischia nailare, e tessere. I suoi uomini, eschia nailare, e un montone di pratica, per cazziare animali. I suoi occhi, che entrano a sas conchedas, in il vero, e i suoi, lo sai amuse a confatto, che sospremmo il muro del preto. Esisteri menta, che aprirmo, fin d'Evrasca, e d'Eno, a Giza e Nido, come in de lana, e su carragliaturas, ma tessi. stai amulmento, che non si cosa, che un'escoberia, tra la comunicata, a sasateros. Ma mento, ad essa serva, che sarà femmina, la scolliana, e la scocchiana, che inivona, sa mannicare, ed a te la serva, che la scolliana, e la svudiana, pomeichina. Suo chile, in mezzo, che non si concheda, il tuo numeracolo. Se all'innasica, non fa che metta uno, ma ne ha chete, e ma mento, un'ottese, deumo, che esprimiano, a pranto, dai sasocros, come la sconcheda, da forza deumatico, e nei tutunietas. Eite non facchiamo, che su oco. De tutto. Stampaiamo salina, la seccaiamo, li daiamo salformas, che queriamo, a salina, e a sasossos, e a sucorro. Poi, limaiamo subrujato, che sa preta, a chi ha un rasoglio, al di lina, e del coro. E che in suiuncu, e che si scrarea, che sorramo il modese, che sa lana, mascherose e femmine, a chi ha un funese, e potropiire, e legare animale, e pischederlo, pro collire di tutto. I separiamo, saspretasa, e li facchiamo salta, a forza dell'africare, su una chissate, e a chi ha mulgare, resogli al de preta, e zappa al de preta. Don se die, e non sono, in ventajaca, che cosa. Cattano, non sono, aia fantasia, can tu oia, e nanebia, sospiezione al minore. Aiamo sempre giocato, chi è soluto, all'impastare, alle dalle vorme, chi è solito, le sicane, la sento stagliata, lo è di addonzo, e dai cussi, a pensare, della sicara a fuoco, e della scocchere, questa forma, non vi chiede a metà, e a terra si scoperta, al fatto, e sa sconchere, al momento, da essere femmina, a fare che stinta, che si accoglie, adesso giù, tinta, dell'anticolore, che puniamo, in tutta, e poi, al momento, come ente, abbiamo cominciato, a trattare, a spedersi, all'ascosire, chi è nato, per neanche, le veste, e mantas, e la scontare, per neanche, distaccarsi, e sa cosa, in nuve, arriviamo, di tutto. Non va, bisogno di dare metà, poi imparare, giù, di tutto, basta, di abbattare, chi so so cosa ha avuto, sul movimento, dei sermani, è un momento, di un tempo, che credo, che i sermani, la chiamano, acconti solo, però sapienti solo, tutti, che accontano, perché si muovono, liberi, e prestati e precisi. dei sermani, di questo tempo, che noi, che il canto sia durato, sul momento, depruse, proprio, il movimento, che è nel passo, dei sermani. Parola, di un momento, ma, se poi, miracolo, che deve, tornare a questo tempo, penso che i sermani, lovinamente, da si scuro, di essere capace, di tornare a diretti, a far creare, su chiacchiano. E se, il numero, oggi, edo, a questa epoca, è giusto, su tempo, dei sermani, che si fa chiacchiano, e si fa chiacchiano. Assumendo, i pianisti, del suo tempo nostro, i sermani, e i sforzi, non obiettano, che si amatessi, la stessa. Tanto pensiamo, che i sermani, non pari a una comandata, da questa mente, pari a chi comandano, in questa mente. E non ci cosa, pari a ta, in desizio, di essere stoccata, da questa, e trasformata. In i mani, in venterasa, deinasas, meicamentosas, tristas, allegras, squenterasas. Se scannese, non la allinghiana, cacchini se lo scariciamo, su spuzzonesse, i bipassaiana, che li diamo a mannicare, che in sermano, su alfrorese, e il salfrutrasse, la scramaiana. Questo è il suo tempo del sermano, sul tempo, del prima, inistattoso, sul tempo del socro, del soricra, del sarrasto, ed è sospedese, che staiamu sempre annanne, sempre annuscanne, sempre ascoltanne, sempre appompiane. No, ma mento, che sul tempo del sermano, non resteremo il movimento al meta. Sospedese, hanno perdito valore. Casopolde, sul tempo, lo colayamu seitaso, miranne la sapienza del sermano. e il tese meraviglia, del sasprimare via, che hanno sanato anche a casa, seccato agli animali, e, firmando il raccindone, un broccolo e i gatti. E la sensibilità del sermano, pare che, che non toccare una cosa, una cosa via, e diano a tutti gli occhiati dentro. Come ovviamente il sermano, del suo dottore, si parla dell'inno. Se uno, deve andare a cercare che cosa ha nato, e non li è niente a sasparare, li tocca la sua mano, ed è come entro che gli stringhi a sasparare. E' una cosa che, come comprendere, abbia sasamorato, e che ha s'esperienza, da una mano strinta, da uno parente, in agonia, che non ha prusso la parola, ma si chiede a narrare, che in sasparare, prodebile che sia, su chi gli resta di narrare. Su dolore, chi patti sa carena, e il suo dolore, della sua mente, all'assare il mondo. Sarmano, sono le prime, e le ultime parola. che in questa, le ultime parola, termina la lettura, della prima parte, del suo libro, del signore di Mialino Prida, del suo primo capitolo, che si è attitolato, del suo tempo, del suo parco, del suo arrasto. E, insomma, ben niente, a far leggere, il secondo capitolo, che è intitolato, su Deino. A MENTORVEDERE! A MENTORVEDERE! A MENTORVEDERE! A MENTORVEDERE! A MENTORVEDERE! A MENTORVEDERE! Grazie.